A UI Capri hanno partecipato grandi imprese, start-up, pubbliche amministrazioni. L'innovazione e la trasformazione digitale non è una partita che si può giocare da soli. Ne parliamo con Andrea D'Acunto, partner UI. Andrea, che cosa significa fare innovazione insieme? Noi tu ricorderete l'anno scorso abbiamo chiuso la sessione di Capri sulle Smart City parlando proprio della collaborazione pubblico e privato come elemento fondamentale per costruire l'innovazione. Cioè la Smart City non si può realizzare se non c'è una collaborazione? Con i silos o con soggetti che lavorano in maniera separata. Ripartiamo da qui. Quindi non parliamo di PA digitale, ma parliamo di come la PA insieme al privato possa lavorare verso il digitale. Gli elementi che identifichiamo in questa sessione sono quattro che caratterizzano i processi di innovazione complessi pubblico e privato. Il primo è l'allineamento degli obiettivi, l'allineamento temporale. La pubblica amministrazione e alcuni soggetti possono lavorare gli obiettivi temporali di medio periodo ed è giusto che così ed investano. Le aziende lavorano chiaramente in logica di medio periodo ma anche più di breve per incontrare dei ritorni immediati. Il secondo elemento è quello del commitment e dell'engagement dei diversi stakeholder, come piace dire a noi consulenti. Tutti i soggetti sono accumulati da delle esigenze e da un commitment completamente diverso. Bisogna trovare la quadra tra tutti i soggetti per tenere alto il commitment nei processi di innovazione. Il terzo elemento è quello delle infrastrutture, almeno che chiamiamo infrastrutture ma che sono elementi abilitanti, infrastrutture digitali, di connettività, sensoristiche, applicazioni ma non solo. Fondi pubblici e privati, come gestirli e come attrarli e competenze. Competenze, forse l'elemento più importante, collegate alla saper definire una rotta ma anche cambiarla in corso d'opera, dialogando. Questo è uno degli elementi su cui va probabilmente il terzo. Il quarto elemento, come dicevo anche ai colleghi, meno sexy probabilmente, è le regole di ingaggio. Tutta questa resta filosofia? Se non riusciamo a definire delle regole di procurement e di gestione, come per esempio dell'interazione pubblico-privato, come le concessioni, che abilitano questo meccanismo e che non sia soltanto un outsourcing di attività. Un lavoro enorme e complesso? Complesso ma come ci piace dire, forse l'unitarietà della governance al lato pubblico forse oggi può aiutare. Abbiamo un nuovo ministro, una nuova Agid, che probabilmente parlano la stessa lingua e che probabilmente può aiutare nell'andare a guidare alcuni processi di trasformazione della pubblica amministrazione, di semplificazione, che può anche fare sponda con l'interazione con il mondo pubblico. E dalla parte delle aziende invece? Dalla parte delle aziende oggi abbiamo diverse eccellenze che stanno lavorando insieme al mondo pubblico. Ne abbiamo ospitata una che è l'Adler Group, che lavora nel mondo dell'automotive e che ha costruito quello che a me è abbastanza caro, essendo napoletano, che è in questa zona del Borgo Irpino 4.0. Un progetto Adler, Regione Campania, STM Microelectronics, Associazione di Categoria e Università di Napoli per costruire un borgo dove sperimentare la mobilità alternativa e dove tutta la filiera della mobilità e dell'innovazione possa lavorare. Questo ha chiaramente un ritorno verso l'amministrazione, ma ha avuto un forte ausilio da parte dell'amministrazione che l'ha appoggiata con fondi, anche pubblici, e con uno snellimento di procedure burocratiche. Bene, è evidente che l'innovazione non è una partita che si può vincere da soli, esistono già, ne abbiamo ricordati alcuni esempi di pratiche positive, magari fra un anno qui a IY Capri ne scopriremo altri di nuovi. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.